Questa stagione, la primavera, stanno fiorendo moltissime piante attorno a noi, fiorellini gialli, fiorellini viola e tantissime altre piante. Ecco, loro sono degli insetti che vivono andando a mangiare nei fiori delle piante e più colorati e profumati sono, più le api vengono attratte dai fiori. Quindi, quando vanno a mangiare su un fiore, si riempiono la pancia di un liquido che è un tipo acqua e zucchero che la pianta produce proprio per loro e con il quale le api producono il miele. Quindi, ragazzi, essendo che mangiano solo nei fiori, è estremamente importante affinché possono continuare a darci un grande miele che ci siano fiori, che ci siano abbastanza fiori attorno a noi per le api.